eccoci qua buongiorno a tutti oggi voglio presentare integralmente la cucciolata di farfalla per tiziano che sono nati il 12 marzo partiamo da questo bellissimo maschietto che lui come vi dicevo l'altro giorno è molto pigmentato sulla testa quindi abbiamo la garanzia che da tutto la schiena rimarrà completamente nera poi abbiamo questa bellissima femminuccia lei è un pochino più chiara quindi da adulta diciamo anche la schiena andrà leggermente a schiarirsi cominciamo a vedere già il primo schiarimento diciamo sulla parte dorsale del cuccio poi passiamo alla mia preferita che è questa bellissima bianco arancio come sapete io sono un papito di bianco arancio per poi andare a eccolo qua dove ti nascondi quest'altro bellissimo maschietto che ha questa particolarità della maschera facciale che gli attraversa tutta la testa però probabilmente diciamo questa lineettina bianca scomparirà crescendo eccolo qua bello come il sole una maschera facciale veramente aperta che gli dà un'espressione veramente stupenda io che vi devo dire signori sono veramente orgoglioso di questa cucciolata la strada è quella giusta e questo è quello che vogliamo portare avanti al beagle di casa Gherdovi ci vi ringrazio e vi auguro buona giornata